ciao ragazzi ciao a tutti oggi proviamo a prendere qualche leciamia con i vtd siamo io siamo siamo io e David siamo ovviamente alla voce del tevere come sempre vedremo quello che succederà a dopo ciao iscriviti al canale 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 è la canale a vertica in basso la barca ad alte profondità che io personalmente la utilizzo però per la pesca con i vtd dalla scogliera perché è una canna molto maneggevole molto sensibile con una riserva di potenza superiore a tantissime altre cani spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo alla prossima ciao! Ciao!